I carabinieri di Caltagirone eseguono un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini e di una donna accusati di violenza sessuale su un minore di 14 anni. Verrà trasportato e fatto brillare domani a Santa Maria di Licodia, l'ordigno della Seconda Guerra Mondiale ritrovato a Sferro, interdetti anche l'aeroporto e la A-19. Tanta paura ma nessun ferito dopo l'incendio scoppiato ieri in un garage nel centro di Paternò, intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Adrano. Ore e ore di lavoro dei pompieri ad Augusta per domare un incendio in uno stabilimento di trattamento e rifiuti, le fiamme causate da un fulmine. A Cicastello e Trecastagni ricordano Vanessa Zappalà, un anno dal tragico femminicidio perpetrato dal suo ex fidanzato, poi suicidatosi. All'austronauta paternese Luca Parmitano, il premio Galla Sin di Isnello, Astro Luca incanta la platea di appassionati. Fervono da giorni preparativi per la festa di Sant'Anastasia a Motta, domani è l'apertura della cameretta, le celebrazioni religiose e folcloristiche, Chuck Telesud racconterà gli eventi. La Proloco di Adrano segnala a varie autorità le criticità che gravano nell'area del Ponte dei Saraceni, in piena valle del Simeto. Si denuncia soprattutto la condizione pietosa in cui versa la provinciale 122. I misericordi Adrano e Protezione Civile Adrano suggellano la loro sinergia in occasione della rassegna estiva di Adrano, amici con uniformi diverse ma con gli stessi obiettivi. Buonasera, benvenuti all'edizione dell'eventi di Chuck News, il telegiornale di Chuck Telesud che apriamo con la cronaca. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Caltagirone hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini di 41 e 49 anni e di una donna di 44 accusati di violenza sessuale su un ragazzo di neanche 14 anni. Vediamo il servizio. Abusi sessuali sul ragazzo di neanche 14 anni. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Caltagirone e suddelega della procura hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini di 41 anni, di 49 e di una donna 44enne accusati di violenza sessuale su un minore. Il giovane era stato costretto in casa di una delle persone raggiunte della misura cautelare, tra l'altro un parente, a praticare rapporti orali, subire strusciamenti e palpeggiamenti e anche ad assistere a rapporti sessuali. L'indagine è stata condotta a seguito della denuncia della vittima dello scorso 8 agosto. A seguito dei fatti, il tormento interiore del ragazzo lo avrebbe infatti spinto a confidarsi con i propri cari e a denunciare in seguito quanto accaduto. I due uomini sono stati portati nella casa circondariale di Caltagirone, mentre la donna si trova nel carcere Pagliarelli di Palermo in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Sarà una giornata difficile quella di domani per il traffico viario per i residenti di un'ampia fette di territorio ricadente nei comuni di Paternò e Santa Maria di Licodia a causa del trasporto e del brillamento di un ordigno bellico rinvenuto alcune settimane fa a Sferro. Verranno chiuse, anche se per breve tempo, l'autostrada Catania-Palermo e l'aeroporto di Catania, oltre che una serie di arterie minori. Dettagli delle operazioni nel prossimo servizio. Tutto pronto a Paternò e Santa Maria di Licodia per il brillamento dell'ordigno bellico inesploso del peso di circa 250 libri risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuto nella prima metà di agosto lungo la tratta ferroviaria Fiume-Torto-Catania-Bicocca in contrada Sferro di Paternò. La data individuata è quella di domani, mercoledì 24 agosto. Il dispositivo di sicurezza al centro di un vertice svolto su ieri in prefettura Catania interesserà i due comuni e scatterà alle 6 del mattino con il caricamento dell'ordigno su un mezzo dell'esercito idoneo al trasporto. Ad operare sarà il quarto reggimento genio guessatori di Palermo che correrà con la scorta delle forze di polizia e il supporto dei vigili del fuoco della Croce Rossa militare e dell'ospedale di Paternò che fornirà un'ambulanza, il trasporto in sicurezza del residuato bellico e la sua successiva distruzione presso la cava di Paola in territorio di Santa Maria di Licodia. Nelle operazioni di caricamento, trasporto e distruzione verranno inibite strade e arie nel raggio di 500 metri. L'ANAS ordinerà la temporanea sospensione della circolazione stradale fra le 6 e le 6.30 della statale 192 e dell'autostrada A19 Catania-Palermo fra gli svincoli di Gerbini-Sferro chilometro 171 e 400 e Catena Nuova chilometro 156 e 600. Interdette per consentire il passaggio della colonna in tutta sicurezza con ordinanza del vice sindaco di Paternò Carmelo Ciccia, anche le provinciali 24 sino a Ponte Barca, 139, 137 primo tratto e la statale 121 a Schettino sino alla svolta per la cava di Paola. Fra le 6 e le 6.30 è stato disposto il divieto di sorvolo della zona di rinvenimento dell'ordigno bellico per qualsiasi tipologia di velivolo con conseguente temporanea non operatività dell'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. A Santa Maria dell'Icodia il sindaco Giovanni Butto ha emesso un'ordinanza che dispone dalle 7 sino a fine emergenza l'interdizione di ogni attività umana nel raggio di 500 metri dal punto di passaggio e di brillamento della bomba nella cava di Paola. I residenti dovranno abbandonare le proprie abitazioni mentre ogni attività produttiva e commerciale dell'aria verrà sospesa. L'aria interessata riguarda la strada Mendolito e la strada Mendolito-Schettino che collega la statale 121 che verranno interdette al traffico veicolare e pedonale. I comuni di Paternò e Santa Maria dell'Icodia attiveranno presso il comando di Polizia Locale Paternese il Com Centro Operativo Misto dove saranno presenti tutte le componenti operative del sistema di protezione civile oltre a Snam ed Enel. Una sparatoria con due feriti, nessuno dei due sarebbe in gravi condizioni. Nella tarda serata di ieri a Catania in via Palermo a innescare le pistolettate sarebbero stati futili motivi. Probabilmente un piccolo incidente fra auto che avrebbe innescato un alterco sfociato nella sparatoria. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Tanta paura ma nessun ferito dopo l'incendio scoppiato ieri in un garage nel centro di Paternò. Intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Adrano. Sentiamo i dettagli. Garage in fiamme nel pieno centro di Paternò. Tanta paura ma nessun ferito. I vigili del fuoco del distaccamento di Adrano sono intervenuti ieri intorno alle 13 in via Gatto, traversa di via Monte Cenere, per spegnere il rogo all'interno di un box di una palazzina a tre piani. I residenti sono tutti usciti dal complesso in via precauzionale. L'incendio ha distrutto tre auto, una moto, diversi su pellettili. Dal garage inoltre i pompieri hanno estratto quattro bombole del gas. In loco anche il 118 con un'ambulanza della postazione di Belpasso. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite o è rimasto intossicato. Sul posto anche i carabinieri della radiomobile della compagnia locale. L'immobile ha subito seri danni. In corso accertamenti per scoprire la causa scatenante dell'incendio, probabilmente riconducibile a un cortocircuito. Restiamo in tema di incendi devastanti. Quello di ieri pomeriggio d'Augusta in un impianto di trattamento rifiuti. Il rogo è stato domato dopo ore e ore di intensa attività dei vigili del fuoco e ancora stamattina alcuni focolai erano presenti all'interno dello stabilimento. Sentiamo i particolari di questo fatto di cronaca nel contributo di Pietro Nicosia. Sarebbe stato un fulmine la causa del devastante incendio sviluppato ieri pomeriggio d'Augusta nel Siracusano, nello stabilimento della Ecomac, impresa che si occupa del recupero di rifiuti speciali non pericolosi, plastici e di cartone nella città megarese. Le fiamme sono state domate dopo ore e ore di intensa attività da parte dei vigili del fuoco di Augusta, Lentini, del comando provinciale di Siracusa, con rinforzi da Catania, Ragusa, Comiso e Lentini, i mezzi della protezione civile e della forestale e un mezzo aeroportuale di Ragusa. Ancora stamattina, nonostante il rogo fosse ormai sotto controllo, erano visibili dei focolai all'interno dello stabilimento. Una nube nera e densa si è levata nel cielo lasciando pensare istintivamente a un incidente negli adiacenti impianti di raffinazione di Augusta Melilli Priolo in Siracusa. Ma per fortuna non è stato così, anche se il materiale plastico incendiato ha provocato non pochi timori. Proprio per questo i tecnici dell'ARPA, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, si sono recati nello stabilimento per avviare un monitoraggio ambientale. L'incendio non ha coinvolto persone, i danni sono stati registrati a carico dell'impianto industriale. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta e ha acquisito il video in cui si nota il fulmine colpire la struttura. Le fiamme sarebbero state originate dal cedimento dei fili dell'alta tensione provocato da un fulmine innesco per carta, cartone e materiale plastico. A scopo precauzionale i sindaci dei comuni viciniori hanno consigliato alla cittadinanza di rimanere in casa chiudendo porte e finestre. E cambiamo argomento. Acicastello e Trecastagni ricordano Vanessa Zappalà, un anno dal tragico femminicidio perpetrato dal suo ex fidanzato che si è poi suicidato. Vediamo il servizio. Un anno fa, nella notte tra il 22 e il 23 agosto, la vita della giovane Vanessa Zappalà a soli 26 anni è stata spezzata da quello che era il suo ex fidanzato, divenuto un'ombra costante della giovane. Non mi fa niente, è solo geloso, diceva alle amiche che temevano per la sua sicurezza. Lo stesso uomo purtroppo l'affreddata con colpi di arma da fuoco sul lungomare di Acitrezza davanti agli occhi sconcertati dai suoi cari e gli increduli passanti. Si tratta di Antonino Sciuto, di 38 anni, che dopo aver distrutto i sogni di quelli che diceva di amare, si è ucciso impiccandosi in un casolare. Il violento crimine ha stravolto familiari, amici e tutti coloro che hanno saputo della trammatica vicenda, che non è solo un caso di femminicidio, bensì l'ennesimo promemoria. Mantenere sempre alta la guardia necessario, nonostante si crede impossibile di avere vicino un soggetto omicida. Quando una persona condiziona le abitudini, l'essere, il modo di gestire una semplice giornata, bisogna saper riconoscere il problema, affrontarlo adeguatamente, prendendo drastiche decisioni necessarie per la propria tutela. L'amministrazione comunale di AC Castello ha annunciato che per la giornata di oggi alle 18 il sindaco Carmelo Scandurra, insieme all'assessore Anna Maria Grasso e a padre Carmelo Torrisi, alle autorità e alla comunità castellese, nello spazio antistante Villa Fortuna, a lungomare dei Ciclopi, si stringerà il dolore dei congiunti di Vanessa, che commemoreranno la propria cara a Trecastagni, località di residenza della giovane. Alle 20.30, infatti, nel comune castagnese, andrà in scena una performance celebrativa in Piazza dei Bianchi. Saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Messina, degli assessorati cultura, pari opportunità o pubblica istruzione. L'evento sarà coordinato da Ornella Ponzio. Parteciperanno alla piccola orchestra etna ensemble Alfio Bellarmino, diretta da Alfio Musumeci, la cantante Anna Russo, nonché le autrici Pina Mazzaglia e Lella Seminerio. Prenderanno parte alla celebrazione anche magistrati, istituzioni, associazioni antiviolenza, la rete d'oro, Tamaia, Laura vive in me e io sono Giordana. Non mancherà la cittadinanza che si unirà al dolore dei parenti e amici di Vanessa. Prestigioso premio a Isnello per Luca Parmitano, l'astronauta paternese in forza all'Agenzia Spaziale Europea, dove la fondazione GalSin ha conferito l'omonimo riconoscimento. Parmitano ha parlato, attenta platea, di intervenuti. Sentiamo. Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea originario di Paternò, noto pure col nickname Astro Luca, è stato premiato al GalSin di Isnello Palermo con la motivazione pioniere e entusiasta che coinvolge e appassiona, protagonista dell'avventura dell'esplorazione dello spazio che racconta del nostro pianeta fragile ma che non ha confini. Il premio giunto alla 14esima edizione promosso dalla fondazione GalSin, il cui nome viene da Gal come Galassia e Assin come il nome che gli arabi diedero a Isnello e che lingua siriaca vuol dire torrente freddo, consiste in un filè in filo d'oro realizzato gratuitamente da una ricamatrice di Isnello che rappresenta una galassia spirale. Parmitano ha sottolineato l'importanza del centro Gal Assin, il centro internazionale per le scienze astronomiche di Isnello, che svolge attività di divulgazione scientifica e didattica e la sua necessità di crescita, alla quale lui stesso vorrà contribuire personalmente. Un filo conduttore, quello della conoscenza, che lega Parmitano al pensiero etico del maestro Antonio Presti, che riceverà il premio Gal Assin alla civiltà l'11 settembre 2022. L'astronauta e il mecenate si sono incontrati in forma privata nella sede della fondazione. La stazione viaggia a 28.000 km orari, quindi copriamo circa 4 gradi di angolo in un minuto, e che vuol dire che quella rotazione di 4 gradi fa sorgere il sole molto rapidamente. Questa è la prima differenza, la rapidità, ma non è soltanto quello. C'è un'altra differenza, che noi siamo abituati a vedere il sole filtrato splendidamente dai colori dell'atmosfera. Lo vediamo più o meno in colore giallo che tende al rosso la sera o all'alba e tende a tingere tutto di rosa. Ma la luce del sole, al di fuori dell'atmosfera, è perfettamente bianca. È la luce più bianca, è il bianco più bianco che potete immaginare, più del Dash, per chi se lo ricorda. È davvero un bianco indescrivibile, è purissimo, è la luce colta alla sua sorgente. Per cui quando sei in orbita, c'è l'intuizione, sta per succedere qualcosa. Apriamo la pagina degli eventi. Fermano da giorni i preparativi per la festa di Santa Anastasia a Motta. Domani è l'apertura della cameretta, le celebrazioni religiose e folkloristiche. Chuck Telesud racconterà gli eventi. Vediamo il servizio. Ci mancava, dopo questi due anni di fermo, ritornare ad abbracciare la nostra Santa Patrona e soprattutto rivederla in mezzo alla gente, in mezzo a questo popolo che onora questa Santa e che gioisce insieme a lei. Soprattutto qui a Motta, grazie ai rioni che arricchiscono, rendono più viva questa celebrazione, questa festa in onore della nostra Santa Patrona, con i loro colori, con le loro manifestazioni. La religiosità e il folclore. Ecco, questo è un connubio iscindibile per la nostra festa e non solo. Misericordia Adrano e protezione civile Adrano, amici con uniformi diverse ma con gli stessi obiettivi sempre a servizio del cittadino. Con una foto e un post su Facebook, le due associazioni di volontariato Adranite suggellano la loro sinergia in occasione della rassegna estiva di Adrano. Sentiamo. La prolocco di Adrano fa sentire ancora la sua voce a tutela dei beni architettonici della città e questa volta punta i riflettori sul ponte dei Saraceni, rincantevole manufatto che collega Adrano e Centuripe nella valle del Simeto, mille anni di storia e considerato fra i ponti più belli d'Italia. Ma raggiungere questa meraviglia è quasi proibitivo perché bisogna attraversare la strada provinciale 122 che da anni versa in condizioni di degrado e abbandono oltreggiate dai rifiuti e da un avvallamento che rende pericoloso il transito veicolare, tanto che per risolvere il problema è stato istituito un divieto d'accesso, tranne per i residenti e i proprietari dei fondi agricoli. Tutti gli altri che vogliono visitare il ponte dei Saraceni possono andare altrove, percorsi alternativi più lunghi, ma molti si avventurano a percorrere la SP 122, quasi un sentiero di guerra fra voragini e rifiuti. Tutto questo viene denunciato da anni anche dalla nostra emittente e sulla vicenda torna la Proloco di Adrano con una lettera inviata con posta certificata dal Presidente Niccolò Moschitta a vari assessorati siciliani e alla città metropolitana di Catania che ha competenza sull'arteria in questione e per conoscenza a vari ministeri ed enti. Alla lettera il Presidente Moschitta ha legato un dossier fotografico, immagini che presentano in maniera impietosa le condizioni della SP 122 che mostra ancora i segni dello smottamento di anni fa. Al centro della carreggiata c'è un dislivello di quasi un metro, una sorta di spartitraffico naturale che simboleggia lo stato di degrado, pericolo e abbandono in cui versa l'arteria. Per non parlare delle tante discariche che costeggiano la strada, i segni della mano dell'uomo incivile che oltraggia il territorio e l'ambiente. Ma nella sua lettera la Proloco segnala altre criticità che gravano nell'aria del Ponte dei Saraceni e invita gli organi competenti a renderla più fruibile ai visitatori. La zona del Ponte è priva di ogni forma di sicurezza, scrive nella lettera il Presidente Moschitta. Lo spiazzo necessita di essere riqualificato con parcheggi e aree attrezzate. Notevole è l'imbarazzo dei soci della Proloco di Adrano, continua Moschitta, allora quando accompagnano i turisti sul posto perché ricevono critiche feroci dirette alle autorità regionali e provinciali e locali che non hanno mai eliminato le criticità del sito. Alla luce di tutto questo la Proloco di Adrano chiede interventi strutturali per valorizzare l'invidiabile aria del Ponte dei Saraceni di Adrano. E chiudiamo con un ultimo servizio, sempre da Adrano, con una lettera inviata ai vari assessorati regionali alla città metropolitana di Catania. La Proloco di Adrano segnala le criticità che gravano nell'area del Ponte dei Saraceni in piena Valle del Simeto. Si denunciano soprattutto le condizioni pietose in cui versa la Provinciale 122 la strada che conduce all'importante meta turistica in territorio adranita. Vediamo il servizio. Una immagine che non è solo una foto di gruppo fine a se stessa ma il segno che si è al servizio della comunità in qualunque momento e circostanza anche per dare un contributo alla rassegna estiva organizzata nella propria città. Una foto e un breve post pubblicati sul profilo Facebook della Misericordia di Adrano che vede insieme volontari adaniti di diverse associazioni. Parole semplici che dicono tutto. Nel post infatti si legge Misericordia di Adrano e protezione civile Adrano, amici con uniformi diverse ma con gli stessi obiettivi, sempre al servizio del cittadino. Nello stesso profilo Facebook della Misericordia al riguardo si legge Assistenza Sanitaria in occasione del concerto di Stibia Occhi, ultimo nostro impegno dell'Adrano Summer Festival. Oltre l'impegno dei nostri confratelli che con dedizioni hanno garantito una costante e numerosa presenza in tutte le manifestazioni, teniamo a ringraziare l'associazione Italian Help System for Life che ha garantito una presenza di medici, infermieri e volontari di alto profilo professionale. Inoltre ringraziamo gli infermieri Andrea Cancemi e Agata Ceramidaro per la loro collaborazione in tutti gli eventi. Che Dio ve ne renda merito. E con questa notizia termina questa edizione del nostro Dele Giornale. vi ricordo che potete continuare a seguirci sul nostro sito www.chacktelesud.com ma potete seguirci anche sui social su Facebook, Instagram e Telegram. Grazie per averci seguito. Una buona serata.